Attenzione sanitaria, Giuliani chiede sostegno all'autorità, la Lega sottolinea che il sindaco può intraprendere azioni autonome, il LPD, parole assurde. La Lega chiede che i beneficiari del reddito di cittadinanza siano impiegati in lavori socialmente utili. Il Festival di Radio Orte, una settimana vissuta con il gossip, i commenti e le canzoni del settantesimo Festival di Sanremo. Ben trovati ad una nuova edizione del TG Magazine. In questa edizione anche la nostra redazione non può non occuparsi della vicenda del coronavirus che in questi giorni sta attenzionando tutti i media nazionali. Sul nostro territorio abbiamo un ristorante cinese che ferma 15 pullman di turisti al giorno, oltre ad una stazione sempre piena di gente. Stiamo seguendo con estrema attenzione gli sviluppi della vicenda coronavirus, ma ancora non abbiamo ricevuto istruzioni dalle autorità. Lo dice il sindaco Angelo Giuliani, portando in rilievo l'attenzione verso un'eventuale diffusione del virus proveniente dalla Cina. Il vero problema di Orte, dice Giuliani, non è la presenza di qualche famiglia di residenti, ma l'incredibile afflusso di persone, turisti e non, che frequentano ogni giorno i nostri punti di snodo viari. Giuliani si riferisce in particolare al flusso di persone della Cina che ogni giorno si fermano al quartiere di Caldare. Date queste condizioni di partenza, è chiaro che ad Orte l'approccio deve essere diverso che altrove, continua Giuliani. E questo è stato ribadito dallo stesso assessorato alla Sanità regionale e col Ministero della Salute, per sapere se bisogna attivare delle procedure specifiche. Parole assurde e inaccettabili, commenta così il PD di Orte. In una nota sul profilo social, il PD ortano dice che il sindaco sembra seguire più le fake news che spopolano in rete, piuttosto che un serio e pacato approccio al problema della prevenzione del coronavirus. Prospettare che orde di cinesi, infatti, possano contagiare Orte è solo una forma di allarmismo, alimentando quell'avversione per il diverso e lo straniero di cui non si sente certamente il bisogno. Certe dichiarazioni del sindaco, conclude il PD, non servono ad aumentare il livello di sicurezza dei cittadini, ma rispondono più ad una logica di allineamento politico allo schieramento sovranista e non tengono in minima considerazione i problemi che in Italia tante famiglie e cittadini cinesi stanno vivendo, essendo spesso oggetto del più becero sciacallaggio. L'iniziativa di Giuliani viene commentata dalla Lega. Il sindaco sa che nelle emergenze può assumere un ruolo e un enorme potere decisionale anche perché è il responsabile della sanità? La Lega si dice anche sgomenta e preoccupata per quanto dichiarato dal sindaco, perché, dicono, la sua unica soluzione è attendere istruzioni dalle autorità per combattere il coronavirus. La Lega invita Giuliani a prendere esempio dal sindaco di Civitavecchia, che per la salvaguardia della salute dei cittadini ha ritardato al massimo lo sbarco dei croceristi, oppure dai sindaci di Valerano e di Caprarola, che hanno adottato provvedimenti immediati per limitare rischi di salute ai propri cittadini. La Lega chiude dicendo che Giuliani dimostri che quell'otto più che si è attribuito è giusto. In tutto questo c'è il lapidario commento di idee chiare. Sulla loro pagina Facebook scrivono, chissà cosa ne pensa di tutto questo il presidente Tofone, del neocostituito Gruppo Lega in Consiglio Comunale, che ha la delega alla sanità. Lega Orte, protagonista in questi giorni della vita politica di Orte, chiama ancora in causa il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, in merito ai lavori pubblicamente utili che sarebbero stati affidati ai percettori del reddito di cittadinanza. La nota pubblicata dalla Lega chiede di sapere quali progetti utili alla collettività stiano svolgendo ad Orte i beneficiari del reddito di cittadinanza. Se questi progetti non sono ancora stati attivati dalla Lega chiede che lo siano al più presto. Come lei ben sa, continua la nota, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere tali attività a beneficio del comune di residenza per almeno 8 ore a settimana, aumentabili fino a 16. Oltre ad essere un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Infatti i progetti tengono conto sia delle esigenze del comune, sia delle inclinazioni, interessi e pregresse esperienze di chi in essi si impegna direttamente, così come risulta dai colloqui sostenuti presso il centro per l'impiego o presso il servizio sociale del comune. Riteniamo, chiude la nota del carroccio, che a fronte di un impegno economico irrilevante per il comune, quale quello relativo alla fornitura di sicurezza, il vantaggio per la collettività sia notevole. Francesco Sardella è stato nominato coordinatore giovani della Lega ad Orte. 18 anni, giovanissimo, con questa nomina diventa uno dei coordinatori più giovani d'Italia della Lega. Risiedo ad Orte, dice Sardella, amo il mio paese e la politica è una delle mie principali passioni. Mi impegnerò al massimo per dimostrare che i vertici della Lega Viterbese hanno fatto la scelta giusta. Radio Orte al Festival di Sanremo con una trasmissione giornaliera denominata Aperi Festival, condotta da Elisa Felici. Andiamo a vedere cosa è successo in questa settimana. Siamo alla porta accanto di Tele Orte, siamo qui a Radio Orte con Elisa che in questa settimana ha dedicato tanto tempo a una trasmissione Aperi Festival che si chiama, che si è parlato ovviamente del Festival di Sanremo. Cosa avete fatto in questi sette giorni? Allora, innanzitutto benvenuti nella nostra cucina, benvenuti nel nostro studio che ci avete gentilmente, come dire, regalato in questo momento. Quindi noi volevamo ringraziare Tele Radio Orte per questo, assolutamente per questa occasione che ci avete dato. Quindi ringrazio tutti. E tu dici, io mi sono dedicata, ma tutti noi di Radio Orte, perché siamo una squadra, siamo una famiglia, ci siamo dedicati a Aperi Festival, che è questo programma che dà l'idea di Alessandro Rinaldi, che è un po' il nostro faro, anzi il nome Aperi Festival l'ha scelto lui, perché noi dove è possibile un aperitivo ce lo mettiamo, Gianni. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Quindi, ora Aperitivo 13.19.30, abbiamo mandato in onda questo primo daily di Radio Orte, cioè un programma con ogni giorno una nuova puntata, che effettivamente è stato un impegno un po' per tutti, è stato anche un po' un test per provare i nuovi programmi su Radio Orte, stiamo facendo tantissime, stiamo mettendo tantissime novità e quindi speriamo sia piaciuto e che succedeva in pratica. Festival, lo sappiamo tutti, è finito, finisce tardissimo, no? L'1.40, l'1.75. Io scendevo nel mio studio personale, perché abbiamo anche degli studi a casa, magari dove dobbiamo fare delle aggiunte anche per radio, quando non possiamo essere qui. Registravo la puntata, è una mini puntata di 10-15 minuti che poi andava in onda il giorno dopo alle 13, alle 19.30. Questo è quanto. E' stato due di occhiaie che c'ho. Ma sì, lo immagino. Fondodinta è stata abbondante per venire qui. Quindi ringrazio tutta la squadra di Radio Orte. Ritorni di ascolto ce ne sono stati, mi sembra, anche abbastanza importanti. Guarda, noi siamo contentissimi perché abbiamo continuato una tradizione che aveva anche con Radio Calibro, cioè il commento del Festival di Sanremo, che per noi di Radio Orte è stata una scelta, nel senso che per noi è un appuntamento importantissimo, perché comunque lancia un po', è tipo il giorno zero e lancia un po' quelli che saranno poi gli andamenti della discografia italiana. Quindi noi come Radio ci siamo sentiti in dovere di seguirlo. E noi ogni anno lo commentavamo tramite la mia pagina personale, tramite la pagina della radio e quest'anno l'abbiamo fatto anche con Radio Orte e abbiamo degli affezionados che ci aiutano nei commenti e quindi, visto che siamo in FM, voglio dire, ovviamente. Quindi non potevamo non approfittare di questa occasione e quindi abbiamo deciso di fare questi mini appuntamenti, ripeto, anche per fare delle prove perché stiamo cercando di dare qualcosa di più. Magari vedo un'anteprima, c'è l'impegno dell'editore del prossimo anno di mandarvi proprio a Sanremo. Quindi faremo il prossimo anno, ci sarà un provito alla diretta lì da Sanremo, vedremo che cosa succederà con i nostri ragazzi di Radio Orte. La radio mi sembra che ha preso in questi ultimi giorni, chiudiamo la parentesi di Sanremo, brevemente per parlare anche delle altre trasmissioni che sono molto caratterizzanti su determinati argomenti. Sì, abbiamo scelto, siccome i programmi non sono tantissimi perché stiamo cercando di lasciare più spazio alla musica, abbiamo scelto degli argomenti, non dico di nicchia, però sai, più il campo è ristretto e più ci sono degli interessati all'argomento. E quindi abbiamo Funky Duck, che è il nostro programma di musica, però di musica indipendente, underground, di musica che sicuramente se la vai a cercare non la trovi, che però è presentata e servita su un piatto d'argento in modo molto irriverente e comico da Francesco Ludovico. Poi abbiamo Sughero, che è un programma che facciamo io, Alessandro e Luca, che è sull'enocastronomia, sempre questa presa in maniera poco seria e molto di pancia. Insomma, c'è da divertirsi, sicuramente. Poi c'è, oddio adesso mi sfugio, c'è Radio Rider, che è un programma sul motociclismo, e c'è Mescalina Backpacker, che è uno dei programmi da sempre più seguiti sulle nostre frequenze, perché è uno di quei programmi, che è capitanato da Enrico Bellicelli e Elena Metori, è uno di quei programmi che prende spunto da un blog già esistente, che parla di viaggi di zaino e spalla, che ha avuto un grandissimo seguito, esiste da dieci anni quasi, credo, e intervistiamo gente da tutto il mondo proprio, quindi Radio Orte va anche all'esterno della zona un po' limito fa, e contiamo di farlo sempre di più, cioè noi vogliamo comunque anche conoscere le situazioni e tutto quello che ci sta intorno, delle cose nuove, non solo del piano piano. Il nostro circondario. Poi una cosa importante è che c'è un nuovo sito di internet che è veramente, veramente molto, 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 molto bello. Bello, bello, no? È ganzo, è gagliato. È un po' più movimentato, diciamo che vogliamo essere più interattivi possibili, possibile, quindi noi cerchiamo di aggiornarlo di volta e lo stiamo ancora modificando, come stiamo incrementando anche la rotazione musicale. Volevo solo dire una cosa, una nuova introduzione che abbiamo fatto su Radio Orte, che secondo me è molto importante, è l'aggiunta dei podcast. Podcast, nient'altro non è che la puntata che vi siete persi, la volete andare a ascoltare on demand, sì, su questo portale Mixcloud i podcast sono presenti anche sul sito di Radio Orte e potete tranquillamente collegarlo anche alla macchina, per esempio, io mi sono persa con la puntata di Aperi Festival, guarda caso. Lo voglio risentire e mi connetto con il cellulare, via Bluetooth riesco a sentirlo anche in macchina, quindi Radio Orte è anche un po' più interattiva in questo senso e noi siamo molto contenti perché gli ascolti ci sono, anzi, vi invitiamo, se vi siete persi una puntata, andarli ad ascoltare perché noi siamo qui anche per sapere voi cosa ne pensate, scriveteci sui nostri canali social perché i consigli sono sempre ben accetti. Bene, grazie a Delisa di essere stata con noi, ovviamente, e torneremo spesso qui a Radio Orte un po' a disturbarli a farci dire che cosa conviene. Assolutamente, sì, siete benvenuti. Ciao a tutti, ciao, grazie. Cambiamo argomento. Rimozione immediata per alberi pericolanti e arbusti che mettono in pericolo la circolazione sulle strade. Lo ha stabilito il sindaco di Orte Angelo Giuliani con un'ordinanza. Il testo è rivolto a tutti i proprietari o gestori di terreni che confinano con le aree pubbliche. Secondo l'ordinanza è obbligatorio entro 30 giorni effettuare la ripulitura. L'ordinanza si applica anche agli alberi che mettono a repentaglio le linee di telecomunicazioni o condutture di energia e gas. Una selezione di studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte saranno ospiti domenica 9 febbraio presso il circuito internazionale Motocross Città di Mantua in occasione del terzo round degli internazionali d'Italia di Motocross. Gli studenti all'interno del percorso di social media management dell'indirizzo amministrazione finanza e marketing gestiranno le dirette social Facebook e YouTube. L'attività è stata avviata sperimentalmente il 28 gennaio scorso. Il successo e l'incremento di visualizzazioni ha spinto gli organizzatori a far proseguire questa esperienza di successo che lega la scuola ad importanti realtà imprenditoriali, locali e internazionali. Si tratta di un percorso che valorizza le capacità innate nel mondo dei social dei nostri ragazzi e li avvicina al mondo del lavoro, ha commentato la dirigente dell'Istituto Scolastico Fiorella Crocoli. L'Associazione Incontri Mediterranei ha organizzato per martedì 10 marzo un concerto presso la Basilica di San Giovanni Laterano a Roma, con l'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro. Il pullman ha un costo di 15 euro ed è necessario prenotarsi in tempi brevi. Il riferimento per orte è il signor Giorgio Petrucci. Adesso ci colleghiamo con la redazione del Tribi Meteo e scopriamo se i prossimi giorni farà ancora così freddo. Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del Tg di 3B. Situazione al momento tranquilla un po' in tutta Italia, come vedete il cielo è tornato a essere sereno da nord a sud, si fa sentire ancora un po' di venti in Puglia ma tenderà a calmarsi. Cosa accadrà poi durante questo fine settimana? Per il momento nulla di che, nel senso che l'Italia soprattutto domani sarà protetta da un campo di alta pressione, mentre l'Europa centro-settentronale inizierà a fare i conti con intense perturbazioni provenienti dal nord atlantico che porteranno tra l'altro venti di burrasca alle medie e alte latitudini. La giornata di domenica vedrà questo flusso perturbare, abbassarsi un po' di latitudine ma ancora rimanere abbastanza lontano dall'Italia. Aumenteranno un po' le nuvole sulle regioni terreniche per l'arrivo di corrente un po' più umide da ovest, però per il momento ancora nulla di eccezionale. Tra l'altro durante il weekend anche temperature in aumento, valori tutto sommato che tornano a essere anche relativamente miti nel nostro paese. Poi lunedì ulteriore abbassamento di questo flusso perturbato, quindi all'inizio della prossima settimana dovremo fare i conti con qualche nuvola in più, il ritorno anche di qualche gocciolina di pioggia sulle regioni terreniche e soprattutto anche un'intensificazione dei venti, venti dei quadranti occidentali. Sanno sempre molto forti sull'Europa centro-settentonale, però anche da noi si faranno in qualche modo sentire, soprattutto regioni di nord-ovest, versante tirenico. Però venti che arrivano da ovest portano anche aria non fredda e in effetti a inizio della settimana, già vi segnalo, temperature sopra le medie del periodo, potremo anche sfiorare i 20 gradi. Con questo è tutto, per rimanere ben aggiornati scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il TG Magazine termina qui, vi ricordo che potete seguirci come ogni settimana ai consueti orari sui canali 71 e 273 e nei siti internet teleorte.it e gnotuscia.it. Io vi lascio come sempre con il collega Stefano Stefanini e con fatti e commenti, noi invece ci vediamo alla prossima edizione. Arrivederci.